Aldo Moro Moro rivendicava il primato della persona umana. Anche nei confronti dello Stato, il cui compito è quello di servire la persona umana e non di servirsi di essa. Resta fermo e ben inteso che la vita umana rappresenta il bene supremo e che lo Stato, verso la vita umana, ha un obbligo di tutela completo. Moro si poteva salvare. Indubbiamente non lo si è voluto salvare. Ne sarebbe emersa una sconcertante verità che avrebbe smascherato molte eminenze grigie nel mondo politico italiano. La ferma decisione di Andreotti di non trattare coi terroristi era chiaramente una meschina e ipocrita scusa per evitare appunto di doversi assumere le sue dovute e gravi responsabilità.